L'AMGA fra un po' farà i lavori, se qualcuno non ci dice cosa faranno, alla fine le banchine rimarranno con la ghiaia. È l'unica strada del quartiere in cui non sono mai state asfaltate le banchine laterali. Le segnalazioni alla nostra redazione continuano ad arrivare ed oggi siamo lungo Via del Poggio, a Fenile di Fano, in una strada realizzata ormai 50 anni fa a servizio delle abitazioni e utilizzata oggi anche dalle vie limitrofe. Infatti i residenti di Via Bini hanno un parcheggio a disposizione proprio in fondo a questa strada. Nonostante le firme raccolte e le numerose mail inviate al comune di Fano, i residenti sono ancora in attesa di una risposta sul rifacimento della strada. L'AMGA ha fatto dei lavori perché perdevano gli acquedotti, ha rifatto tutti i lavori nuovi, ha fatto degli scavi, ha messo la tubazione nuova. Allora, questa via non l'ha mai asfaltata ed è l'unica via che c'è a Fenile che con le banchine non asfaltate, con la ghiaia. Tutte le altre vie sono asfaltate. Allora, visto che l'AMGA fa i lavori, io ho telefonato al comune se potevano integrare con qualcosa per poter asfaltare tutta la strada. Purtroppo loro mi hanno detto che questi lavori non li fanno e io non riesco a capire perché solo questa via non deve essere asfaltata. Però ufficialmente Sorbini mi ha detto che loro non lo fanno, poi mi ha detto sento la detta, però io ho provato a ricontantarlo cento volte e lui non sono mai riuscito a contattarlo perché lavora da casa. Ma i problemi continuano quando arrivano le piogge insistenti. Questa strada è lievemente in discesa. Nelle banchine, essendoci la ghiaia, quanto piove si riempiono tutte le caditoie di ghiaia. Quindi cosa succede? Le fogne non ricevono e rischiamo tutte le volte di avere i garage e le cantine piene d'acqua. Non mi sembra giusto.